E' giusto avere paura, tutti abbiamo paura, perché nessuno è arrivato così lontano finora. E ora siamo a poche settimane dall'oceano orientale, la nostra strada verso casa. Costruiremo una flotta di navi e risalendo il Nilo arriveremo sino in Egitto. Una volta ad Alessandria saremo a casa in poche settimane. Potremo rivedere le persone care, condividere con loro i grandi tesori e i racconti dell'Asia e gioire della nostra gloria fino alla fine dei tempi.